buongiorno oggi un'altra confessione nel tempo io dopo che ero bambina sono cresciuta sono cresciuta perché quando ero bambina ero piccola ero piccolina e poi sono cresciuta sono diventata più grande e quindi arriva il momento che devi partire che devi lasciare il nido di casa per andare a incontrare il mondo perché il mondo lo devi conoscere se non conosci il mondo come fai tu a vivere in questa terra meravigliosa questo 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 pianeta che fa parte dell'universo dove si è anche tu e ci siamo tutti quanti allora esce di casa vai lontano e la mamma che ti avverte figlio mio sei attento per il mondo cattivo e baba e la mamma ragione perché la mamma ti dice non devi andare lì non devi andare la la sera rientra presto non andare in quei posti dove fumano le sigarette che l'odore del tabacco ti rimane addosso e ti fa male ai polmoni e poi quando cresci ti viene questa tosse brutta e poi quando ti presenta la gente piacere di conoscerci hai una puzza di sigarette che hai l'odore di porta ceneri addosso e la mamma queste cose te le dice sempre non andare a destra se stai per entrare sinistra gira dall'altra parte perché può essere pericoloso mi raccomando non sedere in macchina con gli estranei non chiedere passaggi e allora io ero partito di casa era andata in continente avevo preso la nave quando ero sopra la nave mi ricordo si è avvicinato uno che mi diceva voglio questo non capivo quello che diceva perché era napoletano non capivo che voleva dire mi diceva queste parole io poi avevo avevo la cucetta sono andato verso la cucetta questo qui ce l'avevo appresso mamma mia ho detto questo qui sarà scemmo allora mi sono chiuso dentro la cucetta questo si avvicinava e bossava e vai via tutto il maleducato che non sia altro vai via non molestarmi a me che sono una povera ragazza in difesa non venire all'attacco vattene via e allora è andato via e io mi sono sdraiato nella cucetta cercavo di dormire però i pensieri sentivo la voce di mamma da lontano come diceva sempre questi avvertimenti da lontano e la voce di babbo non si capiva perché era nel buio era lontana la voce di babbo e di mamma quella di mamma riuscivo a capire perché era più chiara e poi a un certo punto mi stavo proprio addormentando e sento ancora chi è che sono la voce di babbo e vattene via il caffè lo dai a tua sorella brutta maleducata che non sei altro quando vieni qui a disturbare una ragazza che è lì poverina qui vattene via vattene via e tutta la notte questo qui ogni tanto veniva e mi svegliava io avevo paura avevo paura perché la mamma me lo aveva spiegato si avvicinano queste persone evitano le caramelle le gomme americane aveva ragione io non prendevo né gomme americane caramelle quelle gomme molli molli metteva un'acca davanti a casino no no non si può e poi sono arrivata in continente sono arrivata in continente che era a genova a genova poi da lì si prendeva il treno per andare a milano a milano che io dovevo trovarmi un lavoro però ero un'esperta non sapevo dove andare a cercare questo lavoro e allora avevo trovato una ragazzina di ursulei una ragazza di ursulei mi ha detto vieni con me che ti porto io in un posto dove tu lavorerai in questa pizzeria e sono andata con lei tutta la gente che incontravamo c'era la gente di tutte le parti del mondo milano poi milano una città grandissima una città piena di 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 gente che arriva da tutte le parti del mondo una città internazionale e mi portava in queste strade per arrivare dov'era la pizzeria una pizzeria di uno di bergamo che la sarà questo bergamo che camminevamo camminevamo a un certo punto si vede da lontano pizzeria di cura non so cosa voleva dire c'era scritto un bergamo che siamo entrati dentro questo mi guardava e faccia rosso non capivo continuavo a dire solo non si capiva cosa diceva perché i bergamo maschi parlo come come quelli di bergamo uguale e alla fine era riuscita a capire che mi volevo prendere a lavorare però mi guardava sempre con occhi di mamma mia e allora mi riferiva in mente mamma mi riferiva a mente mamma comunque alla fine ho dovuto vincere questa questo incubo sono rimasta a lavorare e dovevo in casa di questa ragazza di questa amica ursulina e sono rimasta lì un anno poi sono rientrata a casa ed era bello perché avevo sfondato il muro del non sapere e questa è la confessione mia di oggi vi ringrazio ciao a tutti